E' stato inaugurato lo scorso sabato il Centro Commerciale Naturale di Agropoli, una proposta innovativa che mira a dare visibilità a tutte le attività commerciali aderenti presenti sul territorio comunale. Via Salvo d'Acquisto è stata scelta quale area pilota, ma si giungerà in maniera capillare in ogni angolo della città. L'iniziativa mira ad offrire nuovi strumenti alle attività commerciali per farsi conoscere, nell'area social e dell'e-commerce, non essere presenti sui principali canali di comunicazione significa essere tagliati fuori. Oggi parliamo del momento difficile, il commercio, e sappiamo tutti delle difficoltà dei commercianti e del commercio in generale. I problemi che addanagli ai nostri commercianti vengono da lontano, sono complessi e hanno in sé tantissime combinazioni. E allora abbiamo lanciato una sfida a noi stessi, una sfida alla quale dobbiamo rispondere credo tutti insieme. Allora l'idea è quello del centro commerciale naturale. Oggi si diceva l'inaugurazione, l'inaugurazione è un inizio di un percorso che comincia oggi e noi lavoreremo perché nella prossima estate possiamo essere prodotti. Si comincia da quest'area, non di centro, quindi di quasi periferia, proprio per segnalare che il commercio deve essere vissuto e viene accogluto in tutta la nostra città. Il primo passo è cercare di aggiornare il commercio stesso, cominciando da un portale che vi sarà presentato oggi. Banalmente cosa facciamo? Andiamo a caricare questo portale di attività commerciali della nostra città, posizionando su di esse tutti i prodotti che vengono dati nei nostri negozi. Quale potrebbe essere, quale sarà in maggio la prima conseguenza? Io devo comprare un paio di scarpe particolari che per comprare devono andare al centro commerciale, a Salerno. E non so probabilmente che in un negozio della nostra città invece c'è quel tipo di prodotto. Allora digito sul nostro portale quel singolo prodotto e il portale vi indicherà se ci sta e in quale negozio o in quale negozi ci sta questo prodotto. Il grande salto di qualità, se noi tutti quali insieme, l'amministrazione comunale e tutti le cose del nord, già si trovano in un solo luogo, non è un luogo fisico, è un luogo diciamo così su internet, però già il fatto di stare tutti quali insieme, già è qualche cosa di diverso, un passo in avanti, un cambio di ambientalità, un cambio diverso di vedere il mondo del commercio, una logica che si deve uccidere.